Parliamo sempre di cibo, diciamo che l'assist me l'ha lasciato mia figlia quando ho trasformato la sua tesi in alimentazione e in chemioterapia e da lì è partito tutto il progetto. Questo nuovo libro è frutto di quell'evento che è stato fatto qualche mese fa a Pesaro, quella maratona sulla sana alimentazione, dove vari esperti, medici, produttori, politici, nutrizionisti hanno parlato di cibo sotto tutti gli aspetti. Quindi erano salotti condotti da dei giornalisti e a ogni salotto è diventato un capitolo del nuovo libro. Quanti capitoli saranno? Da quali capitoli è composto? Allora, i capitoli sono 27 se mi ricordo bene e prendiamo il cibo da tutti i punti di vista. Parliamo di cibo per i bambini, dallo svezzamento a quelli delle scuole dell'obbligo, diciamo. Parliamo di cioccolato, parliamo di pesce, parliamo di carne, di macrobiotico, di vegetariano. Cioè, in realtà, ogni capitolo va a dare dei consigli utili per come mangiare più sano, come scoprire tradizioni culinarie di un certo tipo. Quando sarà presentato e dove? Il libro sarà presentato venerdì 22 a Fano, alla Pinalcoteca San Domenico, e ho deciso di presentarlo ai marchigiani, perché appunto tutti i capitoli, i protagonisti sono marchigiani. Poi, passata questa prima presentazione, questa esclusiva, a parte che il libro sarà poi disponibile nelle librerie, sia locali che nazionali che online, poi iniziaremo il tour, come è stato col cibo ideale, per portare il giro per l'Italia.